Ciao ragazzi, nonostante io stessa critichi sempre Gaia per qualsiasi cosa faccia, sono qui per dirvi che lei è consapevole di essere ormai arrivata tardi con questo video. Quindi se volete schippare l'unboxing che ormai avrete visto fare persino al vostro vicino di casa, andate a questo minuto per vedere direttamente il make-up. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video sui calendari dell'avvento. In realtà tra l'ultimo che ho fatto, che era tipo inizio ottobre e questo è passato un mese, dovete sapere che io nel frattempo ho comprato tre calendari dell'avvento, poi non ho mai avuto tempo di fare i video in cui li aprivo e mi ci truccavo, perché tra l'uscita della Vintage Vibes e altri miliardi di cose, insomma non ho mai avuto occasione, quindi ho detto dai, oggi giriamo un video sul calendario dell'avvento così giustifico la spesa. Quindi oggi vi beccate un bel video sul calendario dell'avvento, sapete che cerco di differenziare i miei video sul calendario dell'avvento aprendoli, scartandoli, non in ordine cronologico, così non vi spoiler proprio tutte le sorprese dei singoli giorni. Sì hai ragione, in effetti ci troviamo di fronte a un video totalmente diverso da tutti gli altri. E poi mi ci trucco, perché così almeno mettiamo in pratica le cose che ci sono all'interno. E finora di quest'anno ho fatto quello di Sephora e quello di Essence, se non sbaglio. Era Essence, sì. E quindi oggi invece vi beccate quello di Look Fantastic, che pesa mezzo quintale. Allora ho preso questo perché quando ho fatto il video di Sephora, in tantissimi mi avete detto, eh no però guarda che quello di Look Fantastic forse è anche meglio, costa uguale ma il valore dei prodotti è più alto. Perché al contrario di esserci magari le mini size ci sono delle full size e dei prodotti anche tra l'altro abbastanza costosi. Il fatto è che temo che siano finiti i calendari dell'avvento Look Fantastico. Ho appena visto che sono sold out. La qualità che mi piace di più di te è che sei sempre sul pezzo. Questo video non ha praticamente senso ma ve lo faccio lo stesso perché io l'ho comprato, ho speso 89 euro e quindi ora giustificherò questa cosa facendo il video. Non lo so, magari invece si trova da qualche parte e se sapete dove trovarlo scrivetelo qua sotto così chi magari non l'ha acquistato lo acquista. Altrimenti se l'avete già acquistato e aspettate di aprirlo vi spogliererò tutto io. Allora come vi ho detto non voglio farvi l'unboxing cronologico così almeno non vi spoilerate che cosa c'è l'1, l'2, l'3, l'4 ma solo i prodotti all'interno. Quindi io andrò a caso. E andrò anche molto alla veloce perché mai di unboxing dei calendari dell'avvento l'avrete visti 5.000. Quindi diciamo che la cosa importante è che oggi mi truccherò con i prodotti che troverò all'interno. Devo dire che questo calendario tra tutti penso sia il mio preferito proprio come aesthetics perché a parte che è fatto in cassettini quindi non vi dovete spaccare le dita per aprirlo. E si può tenere nel senso che è una confezione molto solida quindi io penso che cercherò magari di riutilizzarlo mettendoci dentro cose a caso. Però secondo me è molto molto carino. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che all'interno di ogni singolo cassettino, e adesso ne aprirò uno a caso, è presente la card che descrive il prodotto, vi dice insomma le caratteristiche principali che trovo sia una cosa effettivamente molto utile. Il primo prodotto che ho trovato è questa Moisture Boost Vitamin C Cream di Emma Hardy, che non ho mai sentito, quindi una crema alla vitamina C. Ok, io lo so che magari qualcuno darà fastidio che io non lo tenga in mano e stragga le scatoline, ma ve lo giuro che pesa 20 kg, non riesco a tenerlo su, quindi mi spiace. Uno dei prodotti per cui sono più contenta di questo calendario è la Highlighting Palette di Sleek Makeup. Questa è la Solstice, che tra l'altro aveva in vaso YouTube quando era uscita, tutti parlavano di questa palettina, quindi palettine illuminanti che utilizzerò sicuramente dopo. Una maschera Smoothing Radiance di Filorga. Una matita labbra di Ilamaska, colore Raw, che in realtà è un nude, quindi tra l'altro appunto in questo calendario stranamente non troveremo un rossetto rosso ragazzi. Rivoluzione, avanguardia pura. Allora, questa è una crema di Pry, credo si dica così, che è per collo e décolleté. È presente molta skincare in questo calendario, ho notato, che è una cosa abbastanza positiva perché sono comunque brand che non conoscevo, quindi almeno scoprirò. Diciamo che avrei preferito un pochino più di makeup, solo quello. Poi abbiamo questo microscopico Bio Effect EGF Serum, quindi un siero per ridurre l'apparenza delle rughe. Poi abbiamo il Queen of Hungary Mist Limited Edition di Omorovica, credo si dica così, non l'ho mai sentito prima. Ha una boccettina molto molto bella, rose gold, e comunque è uno spray che andrò a mettere adesso così per sentirmi luxurious. Ok, profuma di crema solare. È allo spray più nebulizzante che io abbia mai provato, una bellissima sensazione. Però sa di crema solare è tantissimo, molto buono. Quelle creme solare è proprio da ricchi. Poi abbiamo del Rodial, il Dragon's Blood Lip Mask. Ok, questo è per i capelli. Si chiama Elasticizer di Philip Kingsley ed è praticamente una specie di maschera capelli, un trattamento capelli. Poi abbiamo la crema mani Wild Rose. Man mano che si svuota cerco di tirarlo su così almeno mi vedete aprire qualcosa, ma questo l'ho già aperto. Allora, questo è di Delilah Brow Groom. Ah, una matita per sopracciglia. Allora, da una parte ha la matita a goccia in cera, e dall'altra ha il pettinino. Quindi questa la usiamo oggi, perché non ho ancora fatto le sopracciglia. Alcuni li ho aperti e non ho ancora più quali fossero. Abbiamo un rossetto liquido della Mellow, colorazione Teran, che è un nude che fa il paio con la matita di Lamasca, quindi sicuramente lo andremo a utilizzare oggi. Mi piace che sia nude, mi piace, mi piace. Qua abbiamo un cassetto bello grande e dentro ci sono due pennelli occhi della Luxie. Uno a penna molto piccolino, uno da sfumatura ma altrettanto piccolino. Comunque oggi li utilizziamo. Poi abbiamo i Facial Radiance Pads della First Aid Beauty, che sono quindi quei pezzetti di cotone imbevuti di un tonico esfoliante e illuminante. Poi abbiamo di Molten Brown un Bath & Shower Gel, Fury Pink Pepper, annusiamolo. È il classico odore del bagnoschiuma che c'è negli alberghi, non so se avete presente, che ha sempre comunque un odore molto simile. È molto simile a questo, ma è buono. Di Rituals abbiamo un olio secco per corpo e capelli. Questo qua si chiama The Ritual of Ayurveda. Qui abbiamo Oskia London Renaissance Cleansing Gel, quindi un gel cleanser. Vi giuro raga, non potete capire quanto pesi. Poi abbiamo un Overnight Treatment di Avant, che è quindi sempre skincare. Come vedete c'è tantissima skincare, veramente tanta, oserei dire, troppa. Ma finalmente troviamo un po' di makeup. Questo qua è il mascara di Aiko Lash Alert, che volevo provare da un sacco, perché l'ho visto in un sacco di video in Instagram, eccetera. Volevo provarlo, quindi oggi proviamo questo. Poi abbiamo questa matita di Lord & Berry, Travel Black, quindi una matita nera, semplicissima. Living Proof Perfect Hair Day, quindi un prodotto capelli. Poi abbiamo una crema, direi in bel full size, di Elemis Pro Collagen Marine Cream, quindi una crema al collagene. Una lozione purificante Clear Skin Purifying Toner di Caudalie. Il pezzo forte del calendario, che è questa palette di Morphe da 9 ombretti, la 9A, Always Golden. Ma la palette è così. Aspettate che c'è il foglietto di plastica. Voilà, colori neutrissimi e con cui oggi faremo un look super colorato e vivace. Sembra davvero molto molto bella, quindi tra l'altro è bella davvero nel senso che ha uno specchio enorme, le cialde molto grandi, è in plastica lussureggiante, diciamo, nel senso che pesa abbastanza. È davvero molto carina. Questo secondo me è un bel prodotto del calendario, probabilmente il più bello. E infine abbiamo queste Bubble Tea per Look Fantastic Salted Caramel Bath Fizzes, quindi delle bombe da bagno piccoline, però io non ho la vasca da bagno, quindi questo mi ricorda ancora una volta che non ce l'ho e che quindi non le potrò usare. Quindi questo l'abbiamo svuotato, anche un po' io sono svuotata, devo dire, dopo questo unboxing. Metto un attimo a posto davanti a me che c'è un macello che non potete capire e poi cominciamo a truccarci. Benissimo, direi di cominciare dalla palette di Sleek, la Solstice. Solstice? Solstice? Oddio, mi sembra una parola strana da pronunciare. Eccola qua, in tutta la sua gloria, ma immagino l'abbiate già vista perché veramente c'è stato un periodo in cui praticamente si parlava solo di lei. Quindi questa palettina con un illuminante in crema rosato, due molto molto luminosi, uno rosato, uno più champagne e poi invece uno che mi sembra un po' più leggero, sì, cioè sempre luminoso ma comunque un pochino più leggero. Io penso che utilizzerò questo qua. È una palettina davvero molto molto carina. Batto via perché è molto sottile, quindi il pennello ne preleva tantissimo. Quindi vado a battere via e... Ok. Oh! Allora, è molto più bianco di quanto mi aspettassi. Lo atteno un po'. Tra l'altro questo trucchetto della spugnetta funziona anche più che altro per renderlo meno polveroso, per dargli un aspetto un pochino meno polveroso. Comunque sì, questo qua è proprio davvero molto chiaro, più chiaro di quello che mi aspettassi. Ora sopracciglia, quindi utilizzo questa matita della Delilah Brow Groom, che ha da una parte lo spazzolino, quindi spazzolo all'insù. E poi le vado a riempire con la parte di matita che ho... Scrivere? Scrive! Direi proprio che scrive. Eh! Cosa... Cosa volevo fare con questa mossa? Ma vi giuro è una delle matite più pigmentate che abbia mai provato. Ok, è una delle matite più pigmentate che abbiamo usato, quindi ci fa un po' di cautela, ma siamo pronti. Ora direi che possiamo passare a lei. Quindi la palette di Morphe, Always Golden, con queste nove tonalità. Possiamo anche usare i pennelli che mi hanno dato, in realtà questo qua lo uso dopo perché è un po' più piccolo. No, anzi dai, cominciamo con questo. Ok, vado a prendere Bruise, che è questo marrone qua, abbastanza freddino. Ok, appena sfiorando la cialda sono leggermente polverosi, ma nulla di spaventoso. E quindi vado a metterlo nella piega in maniera abbastanza precisa perché appunto questo pennellino in realtà è abbastanza preciso. Ora con un pennello un po' più ampio prendo Splend... No, vabbè, mi è caduto nel nero il pennello. Quindi mettiamolo via con un altro pennello. Con un pennello diverso vado a prendere Splendid, che è il colore... Cammello? Io è tantissimo che non provo gli ombretti di Morphe, ma proprio una vita perché avevo comprato tempo fa delle palette, ma secondo me comunque negli anni ovviamente le formule cambiano. Non me li ricordavo così pigmentati, quindi questo è una cosa positiva, cioè nel senso sono davvero molto 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 pigmentati. Trovo che non siano gli opachi più facili da sfumare nella storia degli ombretti, però alla fine, cioè nel senso, vanno più che bene. Ora direi che vado a prendere Connection, che è questo qua, che è un marrone shimmer, direi sì. Quindi proviamo anche gli shimmer e lo vado a mettere nell'angolo esterno e poi in quello interno. Andiamo a fare una cosa che non avete mai visto, ovvero un Eloi. So che, insomma, può sembrarvi una roba magari un po' troppo avanguardistica, però secondo me prenderà piede, è una cosa che prenderà piede l'Eloi. Ok, lascio libero al centro perché tanto andrò a mettere il colore più chiaro. Vado a utilizzare anche il pennellino... no, aspettate perché non devo fare cazzate. Lo faccio dopo. Allora, ora vado a prendere Surprise, che è il colore shimmer più chiaro, e lo vado a mettere al centro della palpebra. Considerato che però la mia palpebra è abbastanza settata, vado a spruzzare un po' di questo, immagino, costosissimo mist viso per bagnare un po' il pennello, cioè prelevo l'ombretto e poi lo bagno. Così fa un po' più presa e dà un po' più di luce. Ecco, già meglio. Ve lo giuro, sta di crema solare questo coso. Buona, eh, davvero, però è proprio crema solare. E comunque vado a metterlo su tutto il centro della palpebra. Ok, con le dita è ancora più luminoso, quindi nel centro lo vado ad applicare così e faccio l'altro occhio. Con il pennellino piccolino vado a prendere sempre Surprise e lo vado a mettere un po' nell'angolo interno, giusto così, perché ci piace illuminarlo. Poi lo vado a mettere al centro, al di sotto, come ho fatto sopra, e praticamente poi ricreo l'Eloi anche sotto, ma parto dal colore più chiaro, perché sennò sporco il pennello e non viene. Quindi sono già in credula di esserci arrivata prima di fare il pasticcio. Quindi vado a prendere Connection, ovvero il marrone di prima. Uso la matita nera, intanto dietro la luce si spegne sempre più velocemente. Vado a mettere la matita nera nella rima superiore e mi sa anche in quella inferiore. Facciamo proprio un look bello carico, tanto sulle labbra abbiamo il nude. Penso sia la seconda volta che mi metto la matita nera dentro l'occhio in un video su YouTube. Nella vita reale l'avrò fatto forse altre due volte. Però ragazzi ogni tanto succede anche a me. Ok, il look occhio mi piace tantissimo. Veramente tanto, potrei solo sfumare un pochino di più. Prendo un po' del colore più chiaro da transizione e vado a sfumare un pochino i bordi. Ora vado a usare il mascara di Aiko Lash Alert Wake Up and Go, che ha la caffeina dentro. Non so se questo possa davvero aiutare le ciglia, ma ci piace comunque. Potrebbe essere il mascara giusto per carmi. Ok, questo mascara mi piace tantissimo. È super allungante, molto molto nero, molto bello. Ho fatto due passate su entrambi gli occhi, mi piace molto. Adesso labbra, nude. Fa la mia felicità nel vedere un nude. Allora vado a mettere la matita di Illamasqua, prima di tutto. È un colore davvero chiarissimo questa matita, però per dare definizione ci può anche stare. È il rossetto liquido di Mellow, colore Tehran. Che sa di vernice. Texture del rossetto sottilissima, si opacizza subito. Per adesso è confortevole, diciamo che è di quelle abbastanza opachi. Quindi nel caso poi ci vado a mettere su un goccio di luci da labbra. Giusto, luci da labbra, ma chi è che lo dice? Di lip gloss. Giusto per renderlo un pochino meno secco. Comunque, il look è questo. Mi piace tantissimo. È un po' meno scontato del solito rossetto rosso nei calendari dell'avvento. Mi piace che abbiano scelto un nude. Molto molto bello. Non so bene su quante carnagioni possa donare questo colore, ma per fortuna su di me funziona. È addirittura un pelino troppo rosa rispetto ai toni molto caldi della palette. Ma possiamo andare oltre questo fatto. E nel complesso mi piace tantissimo. Mi è piaciuto moltissimo questo calendario. Quindi se ce l'avete, avete davanti a voi. Secondo me un calendario ottimo. E appunto almeno avete visto in azione i prodotti. Quindi spero che vi abbia fatto piacere. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con... Arrivo al momento in cui devo scegliere l'emoji da farvi commentare. E passo dieci minuti a pensarci. Minuti che nessuno mi restituirà mai. Con l'emoji del rossetto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Io dovrei imparare quando giro il video di mettermi a portata di mano qualcosa per aprire le cose. Così poi non ci metto sei anni. Il pennello che avevo in mano 20 secondi fa esattamente. Dove l'ho messo? Posso anche usare i pennelli. Ups. Come se. Grazie a tutti.